è sicuramente una delle operazioni più difficili da fare nel 2023 quello di scegliere una tv è diventata davvero quasi un lavoro un qualcosa di molto complesso da un lato perché i produttori hanno sfornato decine e decine di modelli tutti molto simili tra di loro dall'altro perché sono aumentate senza dubbio le tecnologie relative al mercato delle tv tra sigle, nomenclature e chi più ne ha più ne metta c'è davvero da confondersi a tutto ciò si aggiunge il fatto che gli stessi produttori per lo stesso modello indichino sigle diverse tra di loro semplicemente magari quando l'unica cosa a cambiare è il colore ma niente paura perché in questo video vedremo assieme come scegliere la tv nel 2023 un video che non è fatto per darvi una serie di modelli da acquistare bensì per permettervi di avere quelle nozioni di base che vi permettono poi di fare una scelta un po' più consapevole permettendo il fatto che se troviamo due o tre modelli nella stessa fascia di prezzo con lo stesso prezzo difficilmente andremo a vedere differenze notevoli tra l'una e l'altra proprio perché le tecnologie rispetto anche solo a 5-6 anni fa hanno fatto passi da gigante e quindi diciamo che per lo stesso prezzo c'è un appiattimento delle prestazioni sia a livello di qualità dell'immagine sia a livello di software e funzioni varie ma prima di continuare e scoprire quali sono queste nozioni in base vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e di attivare la campanellina delle notifiche in quanto è l'unico vero modo che avete per supportare il mio lavoro inoltre in descrizione trovate alcuni link a video e guide che ho già fatto per scegliere il tv in base al prezzo che volete spendere ma bando alle ciance e iniziamo questo video la prima cosa da fissare è senza ombra di dubbio il budget sembra banale dirlo ma è una cosa che ripeto spesso è inutile andare alla ricerca di un dispositivo se abbiamo un budget non definito cambia tantissimo un conto è avere 300 euro di budget un conto è averne 600 avere un budget troppo ampio rischia solamente di confondervi le idee dire di voler spendere tra i 500 e i 1500 euro significa avere una serie di opzioni davvero troppo ampia che alla fine allunga davvero e rende complicato il processo di scelta per cui definite un budget da spendere definite una cifra da spendere nell'ordine dei 100 euro non andate a decidere o 3000 e 1800 euro perché c'è a 1000 euro il 42 pollici top di gamma e a 1800 euro l'85 pollici però con tecnologie di fascia media quindi diventa davvero difficile consigliare qualcosa sotto questo punto di vista quindi è davvero importante capire e quindi è un po' più importante e quale cifra non si vuole assolutamente sforare detto questo passiamo però alla cosa più importante ovvero alle tecnologie che ci sono dietro alle tv sentiamo sempre spesso parlare di lcd led qled qd oled 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 evo e chi più ne ha più ne metta adesso si sono aggiunti anche i mini led e tra qualche anno probabilmente arriveranno anche i micro led che attualmente non sono disponibili quindi semplicemente per un fatto di costo il pannello micro led è davvero costosissimo da produrre e quindi dovrebbe essere venduto a cifre intorno ai 10.000 euro per gli antilevel e quindi per quello non lo vediamo ma arriverà è solo una questione di tempo che differenza c'è tra un led qd oled e tutte le altre sigle che ho detto iniziamo dal basso perché ognuna di queste sigle identifica al giorno d'oggi una specifica fascia di prezzo il led diciamo che è la tecnologia più basilare è quella che offre la minore qualità a oggi ed è quella più economica da produrre i televisori led sono composti di solito da più strati ovvero noi vediamo lo schermo ma dietro lo schermo ci sono più strati e quelli più importanti sono due lo strato dedicato ai pixel che di solito è il primo e lo strato dedicato alla retroilluminazione e per quello che si chiamano televisori retroilluminati perché ci sono una serie di led luminosi esattamente come le luci o come questa lampadina che mi sta illuminando il volto di dimensioni molto piccole che ci permettono di illuminare i led in modo da vedere poi le immagini finali questi led hanno diverse disposizioni quelli più economici hanno una disposizione lungo i bordi quindi tutti i led sono disseminati lungo la cornice del televisore perché quella più economica? prima di tutto perché si utilizza un numero minore di led va da sé che se dobbiamo spargere led solamente lungo il perimetro del nostro televisore avremo bisogno di meno led e quindi il produttore costa di meno dall'altro lato però offre la minore qualità perché? perché se noi abbiamo un punto luminoso nella parte estrema del televisore più il televisore sarà grande più questo fascio luminoso farà fatica a raggiungere il centro del televisore per cui questa tecnologia costa poco è vero ma vi dà altrettanto poco nel senso che avrete un'immagine molto luminosa ai bordi o comunque con la giusta luminosità ai bordi immagine che però verso il centro tenderà a diminuire la sua qualità la sua fedeltà cromatica e soprattutto la sua luminosità ci sono tecnologie che riescono a sopperire a questo problema? sì perché i televisori led esistono anche con tecnologia FALD cosa significa? cos'è la tecnologia FALD? beh significa che anziché porre i led sulla cornice si suddivide il televisore in tante piccole sottozone ognuna di queste sottozone è retroilluminata con controllo indipendente è ciò che viene chiamato local dimming ultra local dimming FALD chiamatelo come volete però il significato è proprio questo che anziché mettere i led lungo la cornice ci sono delle zone a controllo separato che vengono gestite in maniera indipendente dal processore del vostro televisore va da sé che in questo caso per gestire una tala tecnologia è necessario avere un processore più potente che ovviamente si tradurrà con una maggiore piacevolezza d'uso per quanto riguarda tutto il software e questi sono i televisori diciamo che possiamo trovare in un range piuttosto ampio ma comunque di fascia economica troviamo televisori da 75 pollici a 1200 euro con questa tecnologia quindi led sia con retroilluminazione edge sia con retroilluminazione local dimming e troviamo anche televisori diciamo in 32 pollici i 40 pollici tutti questi televisori compatti diciamo che nella maggior parte dei casi hanno proprio queste tecnologie e quindi sono quelli più economici in un gradino superiore diciamo che vanno a riempire del tutto la fascia media troviamo i QLED QLED che vengono chiamati dalle varie aziende con vari nomi quindi QLED nanocell, ULED, Triluminous Display Philips ha ancora un altro nome insomma diciamo che la tecnologia di base è la stessa cioè tra la zona di retroilluminazione e i pixel c'è un ulteriore strato di punti quantici cosa sono questi punti quantici? immaginateli come un occhiale da sole che permette di direzionare meglio la luce verso il pixel in modo da restituire un'immagine con colori più fedeli è esattamente questo il QLED, il filtro quantico ti permette di gestire meglio la retroilluminazione di colpire meglio i pixel che poi restituiscono un'immagine e questo ti permette di avere dei colori più fedeli dei colori più brillanti ma soprattutto di ridurre non eliminare del tutto ma ridurre senza lombra di dubbio uno dei principali difetti dei televisori LED ovvero quello degli angoli di visione se ci fate caso molti televisori LED i televisori che magari hanno i vostri nonni qualche televisore di qualche anno fa si vedono perfettamente se li guardate frontalmente non appena iniziate a guardarli di taglio esiste una determinata posizione in cui praticamente i colori virano e tendono al grigio giallo insomma non si capisce più che tipo di immagine stiamo guardando con i televisori QLED ULED nanocell come li volete chiamare questo problema si risolve va da sé che rappresentano un'ottima alternativa per chi non ha cifre sorbitanti da spendere ma comunque vuole un televisore che abbia una buona qualità nel 90% dei casi è ovvio che non sono i migliori in assoluto per quanto riguarda la fedeltà cromatica non sono i televisori che usano a Hollywood per gestire la calibrazione cromatica di un film però per una visione tradizionale i cani tradizionali vanno più che bene e questi rappresentano appunto la fascia media li troviamo diciamo dai 400 euro fino ad arrivare ai 2000 euro questo perché? perché a poco meno di 2000 euro troviamo l'ottimo TCL 75 pollici C73 con pannello QLED risoluzione 4K dopodiché abbiamo i mini led che rappresentano la fascia più alta dei QLED cosa sono i mini led? lo dice la parola stessa al posto del tradizionale led c'è un mini led che è grande qualche nanometro quindi davvero molto 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 piccolo e questo permette di avere numerosi vantaggi innanzitutto una migliore fonte di luminosità se aumentiamo i punti che producono luce avremo di conseguenza una maggiore luminosità finale e questo porta alcuni vantaggi come appunto un miglior HDR una migliore gestione delle zone tra chiaro e scuro dei contrasti e tanto altro ancora dall'altro lato aumentano di conseguenza le zone indipendenti della retroilluminazione quindi il local dimming diventa ancora più preciso perché questo permette di avere delle zone molto più piccole con molti più led e quindi di controllare indipendentemente tanti quadrotti che compongono poi il nostro pannello il nostro televisore per esempio gli ultimi mini led di Samsung ma anche di TCL riescono a superare le 576 zone di retroilluminazione alcune arrivano anche a 700 che è un valore astronomico è un valore eccezionale che ti permette davvero di avere una qualità estrema ho provato un mini led nel 2021 e vi devo dire che è il televisore che più mi ha impressionato per quanto riguarda la luminosità sono televisori perfetti no ma quasi nel senso che appunto l'unico limite rappresenta nel senso che l'unico limite è rappresentato da una riproduzione dei neri che ovviamente non è perfetta perché i led in questo caso rimangono sempre accesi e quindi avremo dei neri che sebbene molto fedeli non saranno dei neri assoluti ma sempre con quel lalone di grigio che insomma un appassionato qualcuno che vuole una fedeltà cromatica assoluta magari fa storcere il naso tuttavia hanno un enorme vantaggio ovvero la possibilità di essere utilizzati senza alcun problema per lunghi utilizzi e la capacità di garantire appunto un'elevata luminosità e quindi di essere di poter essere posizionati anche in ambienti piuttosto luminosi posso immaginare uno studio un aeroporto un bed and breakfast un salone magari abitato in una casa vetrata beh il mini led a questo punto potrebbe risultare la scelta più ovvia ed è diciamo una tecnologia che va a occupare la fascia più alta dei televisori led che si dividono appunto in led, qled e mini led ognuno con i suoi pro e i suoi contro ovviamente essendo la fascia più alta avranno dei costi molto più alti abbiamo dei mini led che vanno a superare anche i 2000 euro detto questo passiamo alle due tecnologie OLED abbiamo l'oled standard che è quello che tutti abbiamo imparato a conoscere a partire dal C7 di LG quindi stiamo parlando di 5-6 anni fa era mi sembra addirittura il 2016 quando i primi OLED arrivarono sul mercato con tanto stupore ma con altrettante paturnie detto questo però diciamo che la tecnologia OLED anche in questo caso ha fatto passi da giganti oggi possiamo distinguere tra due tecnologie OLED l'oled diciamo base che troviamo nei modelli un po' più economici non parliamo di fascia ultra economica perché non ci sono OLED che costano meno di 900-800 euro almeno di andare sui modelli degli anni passati per esempio l'LG A2 ha un OLED diciamo molto standard che ha sicuramente il pregio di riprodurre dei neri perfetti tuttavia pecca nel fatto che non ha una luminosità elevatissima e questo va a incidere poi sulla riproduzione di contenuti HDR Dolby Vision e insomma tutte quelle tecnologie che portano ad avere una visualizzazione ottimale di determinate immagini con elevato contrasto tra l'altro ho fatto un video dedicato tra le differenze tra HDR e Dolby Vision per cui andatelo a recuperare se avete ancora qualche dubbio detto questo ci sono poi gli OLED diciamo di fascia un po' più alta che sono chiamati anche in questo caso in vari modi da LG OLED Evo la nomenclatura esatta sarebbe OLED EX ci sono i nuovi pannelli di nuova generazione che sono OLED MLA cosa cambia tra l'OLED base e l'OLED diciamo di nuova generazione l'OLED di nuova generazione riesce a gestire una maggiore luminosità questo è dovuto ad una migliore tecnologia e ad uno sviluppo stesso della tecnologia ma anche a nuove lastre di dissipazione che riescono a mantenere a bada i caldi spiriti degli OLED che vanno appunto adeguatamente dissipati in modo da raggiungere dei valori di luminosità più elevati va da sé e questo succede in realtà anche nei LED anche se è più facile gestire il singolo LED rispetto ai pixel degli OLED che sono a matrice organica il pannello sviluppa maggiore luminosità tanto più è raffreddato questo perché? perché più abbiamo luminosità più calore si produce e in questo la maestra assoluta è senza ombra di dubbio Panasonic che con la serie 1500 e 2000 dei suoi televisori OLED ha raggiunto lo stato dell'arte di questa tecnologia pannelli quelli di Panasonic che sono nient'altro che gli OLED EX DLG ma customizzati con una migliore dissipazione con una migliore calibrazione che riescono davvero a garantire una visione ottimale dell'immagine a 360 gradi gli OLED hanno il classico problema del burn-in anche sotto questo punto di vista ho fatto un video dedicato c'è da preoccuparsi? beh diciamo che con le ultime tecnologie questo problema è notevolmente ridotto anche se poi dobbiamo dire che in realtà il burn-in o in altri casi il ghosting è un problema che affligge tutti i pannelli a prescindere dalla tipologia di tecnologia e nell'ultimo anno quindi nel 2022 sono arrivati sul mercato i QD OLED cosa sono questi QD OLED? immaginate l'unione tra l'OLED e il QLED cosa vi ho detto per quanto riguarda il QLED? che uno strato di punti quanti ci viene interposto tra i pixel alla retroilluminazione in modo da direzionare meglio la luce e ottenere una migliore immagine il QD OLED funziona diciamo nello stesso modo o meglio in una maniera molto simile in quanto i pixel rossi e verdi vengono interposti da uno strato di pixel completamente blu e questo permette a Samsung perché è Samsung che ha brevettato e sviluppato questa tecnologia di ottenere un'immagine con colori un po' più saturi rispetto a quelli sviluppati dagli OLED tradizionali c'è però un unico contro ovvero che i neri risultano leggermente più chiari rispetto all'OLED tradizionale o comunque all'OLED Evo quindi sono differenze che vanno un po' nella soggettività impossibile dire quale sia migliore tra l'uno e l'altro abbiamo televisori ottimi con entrambe le tecnologie da un lato OLED tradizionale abbiamo il Panasonic OLED 1500 dall'altro c'è il Sony A95K con il QD OLED ed è comunque un eccellente televisore quindi quale tecnologia scegliere mio consiglio se volete spendere poco tecnologia LED se avete un budget medio diciamo andate sul QLED se volete utilizzare il televisore per tante ore in ambienti tanto tanto luminosi andate di mini LED se invece volete fare diciamo una saletta cinema usare il televisore in ambienti bui e non per tantissimo tempo OLED Evo di OLED potrebbero essere la scelta giusta ovviamente più saliamo in questa scala più andremo a spendere anche come costi di gestione perché un mini LED potrebbe consumare molto di più rispetto a un LED Edge ma questo insomma va da sé rispondo ad una domanda che mi fate spesso perché i produttori non fanno un televisore top di gamma con diagonale inferiore ai 40 pollici è qualcosa che in Italia viene molto sentita uno perché non abbiamo enormi spazi soprattutto nelle città due perché siamo insomma affezionati ai televisori un po' più compatti tant'è che spesso mi chiedete anche perché non faccio un video sui televisori 32 pollici di fatto perché le scelte sono due o tre non è che ci sia tutta questa varietà perché vengono abbandonati i formati più piccoli in favore dei formati più grandi in primo luogo c'è una questione di esigenze globali all'estero la gente preferisce avere televisori più grandi perché ha la possibilità di poter installare televisori più grandi e quello è la dimensione un argomento che trattiamo tra qualche secondo l'altro lato è che in realtà produrre un televisore con diagonale più bassa rispetto ad un 50 55 65 pollici con determinate tecnologie non è meno costoso rispetto a produrre un televisore con diagonale più elevata anzi risulta addirittura più costoso questo l'abbiamo visto con i televisori OLED e DLG soprattutto quando sono state presentate le versioni da 48 e da 42 pollici che sono tutti gli effetti dei top di gamma ma hanno dei costi molto simili addirittura a volte le differenze di prezzo rispetto al 55 pollici sono di un centinaio di euro questo perché produrre da zero un nuovo pannello con quella diagonale ha dei costi elevatissimi e soprattutto una scelta che non ripaga sul mercato globale questo proprio perché noi italiani che abbiamo questa esigenza siamo 60 milioni e quelli interessati a comprare un televisore solo una percentuale ridotta all'estero l'esigenza soprattutto sul mercato asiatico è quella di avere i televisori un po' più grandi ritorniamo però subito su risoluzione e dimensioni che sono strettamente correlate e soprattutto su quale dimensione scegliere già perché la dimensione è importante lo sappiamo bene Rocco ci ha insegnato tantissimo su questo ma battuta a parte la dimensione non va scelta a caso così come non va scelta a caso una macchina tra una monovolume un SUV e un utilitaria perché offrono due spazi diversi così la dimensione del nostro televisore quello che dobbiamo mettere nel nostro salotto non va scelta a caso da cosa dipende questo fattore da altri due fattori ovvero la risoluzione del display e la distanza a cui lo guardiamo c'è da dire che nel mercato di oggi la maggior parte dei televisori ha risoluzione in 4k e quindi abbiamo la possibilità di accedere a tabelle di accedere a strumenti che ci permettono poi di capire a seconda della nostra distanza di visione quale televisore scegliere e l'altro è la risoluzione perché la risoluzione è importante oggi abbiamo la risoluzione in 4k e la risoluzione 8k sebbene non sia una risoluzione molto apprezzata dal mercato tant'è che alcuni produttori stanno addirittura lasciandola da parte e abbandonando comunque ve ne voglio parlare questo perché perché se con la risoluzione in 4k di norma la regola dice che un 55 pollici va visto a circa 2 metri di distanza un 65 pollici va visto a 2,5 metri di distanza e un 75 pollici va visto a circa 3 metri di distanza questo perché è importante perché la distanza cresce con il crescere della dimensione perché a parità di risoluzione quindi risoluzione 4k più è grande il televisore più c'è la possibilità di vedere il singolo pixel e quindi per avere un effetto ottimale di una buona definizione dovremo allontanarci dalla tv è lo stesso principio del puntinismo se noi andiamo a vedere un quadro puntinista con la lente di ingrandimento non riusciremmo a notare nessuna immagine ma solo tanti punti uno vicino all'altro più ci allontaniamo dal quadro puntinista più l'immagine verrà delineata e qui è lo stesso principio con la risoluzione 4k che sembra elevata ma in realtà nei televisori non è così elevata come potremmo pensare soprattutto quando superiamo i 65 pollici più aumentiamo la diagonale e più dovremmo stare lontani è lo stesso motivo per cui quando andiamo al cinema ci fanno sedere a decine di metri di distanza rispetto al display e non attaccati o subito sotto perché altrimenti vedremo solamente dei grossi puntoni muoversi e avremo il mal di mare va da sé che con una risoluzione nettamente maggiore vi ricordo che da 4k a 8k non significa una risoluzione doppia ma ben 4 volte superiore mentre l'8k ha 32 milioni di pixel da gestire il 4k ne ha solamente 8 milioni poco più di 8 milioni e quindi abbiamo molta più nitidezza pixel molto più piccoli e questo cosa significa che in linea di massima potremmo scegliere di prendere magari un 75 pollici da guardare a 2,2 2,3 metri di distanza proprio perché con la maggiore risoluzione si va ad annullare l'effetto di vedere i pixel più grossi proprio perché questi ultimi saranno molto più piccoli è un concetto molto più difficile da spiegare rispetto che da comprendere ma andate in un qualsiasi centro commerciale cercate di mettere o di farvi posizionare due televisori alla stessa distanza con la stessa risoluzione uno piccolo e uno più grande e lo vedrete da voi è una cosa di cui tenere conto ma vi prego non scegliete la dimensione a caso perché andare a prendere un 80 pollici per poi metterlo a due metri di distanza non causa altro che malessere e una visione più sgradevole che altro quindi la risoluzione abbiamo capito che è un fattore importante in merito alla distanza di visione quali altri parametri sono da scegliere quando andiamo a scegliere un televisore beh senza ombra di dubbio il sistema operativo tutti i televisori del 2023 sono smart perlomeno non quelli ultra economici da 50 euro da centro commerciale ma se scegliamo un televisore che costa più di 250 300 euro a salire abbiamo un sistema operativo al suo interno quale sistema operativo è meglio c'è da dire che rispetto a qualche anno fa la situazione è notevolmente migliorata i sistemi operativi in ballo sono diciamo 4 o 5 c'è android tv o google tv di base sono molto simili nel senso che la base è la stessa cambia magari qualche funzione in più o in meno su google tv rispetto ad android tv è soprattutto un'interfaccia leggermente diversa abbiamo lg web os che è montata sui televisori di lg samsung tizen che è montata sui televisori samsung e vida u che è montata sui televisori isense inoltre panasonic ha la my home screen credo che sia arrivata alla 7.0 se non ricordo male che è un'interfaccia forse tra tutte queste un po' la più anziana e poi abbiamo file tv os che abbiamo visto sui televisori di show me e su alcuni altri modelli c'è qualche differenza a cui fare attenzione diciamo che al giorno d'oggi tutti si comportano molto bene fino a qualche anno fa c'era qualche problema di incompatibilità nel senso che per esempio disney plus è tardata ad arrivare come applicazione su vida u e su my home screen ma al giorno d'oggi diciamo che tutte sono compatibili c'è da dire però che google tv tizen di samsung e web os di lg hanno qualche marcia in più soprattutto per quanto riguarda la gestione della casa smart tizen e lg soprattutto hanno davvero un'interfaccia costruita ad hoc per gestire tutti gli apparati smart di casa per cui se vogliamo una casa connessa da gestire con il telecomando beh potrebbe essere l'alternativa giusta detto questo io onestamente vi consiglio comunque di vederli dal vivo cercare di capire qual è quello che più si confà alle vostre esigenze anche al vostro gusto personale in modo da vedere con quale vi trovate meglio diventa davvero una questione nettamente soggettiva c'è da dire che forse il sistema operativo di panasonic è quello che è rimasto dal punto di vista grafico qualche anno indietro rispetto a tutti i competitor ma magari arriverà una svecchiata con qualche aggiornamento cos'altro dire per quanto riguarda i televisori beh senza ombra di dubbio c'è la parte audio Dolby Atmos DTS soundbar integrata sistema integrato acoustic surface audio plus sono solo alcuni dei termini che mi vengono in mente che definiscono un impianto audio tuttavia anche in questo caso non fatevi trarre in inganno dal marketing delle aziende perché leggere Dolby Atmos o DTS o quello che volete non significa assolutamente nulla il Dolby Atmos può essere integrato tramite una funzione software anche quando avete solamente due altoparlanti questo non significa che avrete di fatto un audio Dolby Atmos ma significa solamente che due piccoli speaker da 10 watt sono in grado di riprodurre sorgenti Dolby Atmos ma il Dolby Atmos vero ovvero l'audio multicanale con 5 o 7 altoparlanti è un'altra cosa oggi televisore che davvero suona in maniera eccellente il Panasonic JZ2000 che verrà sostituito dall'MZ2000 che è un sistema con ben 12 altoparlanti veri che distribuiscono l'audio a 360 gradi al suo costo però è uno dei migliori subito sotto porrei Sony con il sistema Acoustic Surface Audio Plus integrato sugli OLED ovvero al posto degli altoparlanti ci sono degli attuatori che fanno vibrare lo schermo e questo ti permette di essere investito per così dire direttamente dall'audio che sembra uscire dalla voce di ciò dei personaggi del film che guardate queste sono le nozioni base è ovvio che lì fuori sul mercato ci sono decine decine e decine di modelli diversi possiamo parlare poi anche della compatibilità con l'HDMI 2.1 ma su quello ho fatto un video specifico per cui vi rimando a quel video lì perché è ancora attuale e risulta ancora gradevole infine una piccola parentesi per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento al giorno d'oggi infatti sembra che avere una frequenza di 120 Hz sia il minimo sindacale per poter godere appieno della propria televisione beh non è così è semplicemente un'altra delle voci che si aggiungono al marketing in realtà dovete sapere che la maggior parte dei contenuti che vediamo soprattutto i film che escono al cinema che poi guardiamo attraverso le maggiori piattaforme di streaming multimediale online vengono registrati a 24 fps questo significa che già un pannello a 24 Hz sarebbe ottimale per poterli vedere avere 120 Hz non significa infatti sfruttarli in ogni secondo anche perché altrimenti i consumi sarebbero anche molto più elevati di quello che non sono già avere 120 Hz significa che nel momento in cui andiamo a usare una sorgente un videogioco un filmato un film qualsiasi cosa quindi un video appunto una playstation un computer che sia in grado di generare 120 fps allora con 120 Hz noi vedremo effettivamente tutti gli fps generati dalla nostra sorgente sia essa appunto il pc la playstation l'xbox e chi più ne ha più ne metta avere 120 Hz non significa godere meglio dei contenuti che già abbiamo anche il nostro cellulare a 120 fps quando guardiamo un video si adatta al video che noi guardiamo sia adesso a 30 a 60 o a 120 fps quindi non fatevi ingannare dal marketing è pur vero che al giorno d'oggi tutte le tv diciamo sopra i 1200 1300 euro hanno comunque più di 120 Hz di frequenza di aggiornamento alcune in 3ds arrivano anche a 144 Hz tuttavia se non giocate questo è un aspetto che potete lasciare in secondo piano così come l'HDMI 2.1 per questo video è davvero tutto scusate se è stato lungo ma spero di avervi chiarito le idee se così non fosse vi ricordo che lo spazio dei commenti è aperto e risponde a tutti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ciao